Stamattina è stato recuperato dai sommuzzatori dei Vigili del Fuoco il quinto corpo dei sei dispersi del nubifraggio del superiote Bayesan nelle acque di Porticello nel Palermitano. Si tratta del corpo del magnate Mike Lynch, la conferma è arrivata al termine della procedura di identificazione. Dopo che il corpo è stato portato a Riva sale così a sei il bilancio dei corpi recuperati dopo il ritrovamento di Riccardo Thomas lunedì. Ieri sono stati recuperati nel pomeriggio e identificati i primi quattro corpi. Si tratta del banchiere Jonathan Blumer, della moglie Elizabeth, dell'avvocato Chris Morvillo e della moglie Nada. Il corpo del magnate Mike Lynch era stato individuato ieri in una delle cabine del relitto. Il cadavere è stato condotto in porto da un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco all'interno di una body bag di colore blu. Straordinario lo sforzo dei soccorritori e in particolar modo dei Vigili del Fuoco Subacui e della Guardia Costiera, personale altamente specializzato per le immersioni in profondità, che si sta confrontando con le difficoltà di impiego all'interno dei spazi stretti della barca affondata. Intanto è stato interrogato dai PM per oltre due ore il comandante del veliero. Si cercano di individuare le eventuali cause che in aggiunta alla tromba d'aria possano aver contribuito all'affondamento del veliero. Ci si interroga sull'ipotesi di un boccaporto aperto che possa aver fatto imbarcare acqua con più rapidità e su aspetti tecnici riguardo la posizione dell'imbarcazione al momento dello straordinario evento atmosferico.